Lucia Graffi, da oggi allora che fa? Siete sforzati? Non avete più un locale? No, abbiamo 30 giorni. Ci hanno dato 30 giorni di tempo. Una lettera concisa in cui si dice che l'amministrazione intende revocarci i locali con una motivazione abbastanza strumentale in cui si dice che noi non abbiamo un contratto per cui non possiamo stare là. Tenuto conto che il contratto era compito dell'amministrazione redigerlo perché noi abbiamo avuto una delibera di affidamento e nelle more dovevano provvedere loro a fare il contratto. Quindi ci tolgono i locali per una motivazione che non è nostra. E ora cosa farete? Come farete? Considerato che avete avviato anche numerosi progetti? Voglio dire, la nostra è un'associazione che in questo territorio opera da 25 anni e voglio dire, quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti, soprattutto del quartiere che negli ultimi dieci anni ha visto la nostra associazione insieme a tante altre realtà operare in quel quartiere. Certo, è un problema serio in un momento in cui la città vive una crisi profonda economica, sociale, con tutta una serie di problemi, si colpiscono le associazioni che in questi mesi e in questi anni hanno in qualche modo con tante difficoltà però sostituito a volte anche il ruolo delle istituzioni. Per cui da una parte ci tolgono i locali, dall'altra i servizi sociali ci chiamano per assegnarci casi, per ragazzi, per ascoltare, per consulenze legali, per consulenze psicologiche. Quindi insomma anche all'interno del comune dovrebbero, come dire, mettersi d'accordo, no? Perché se tolgono i locali vuol dire che hanno intenzione di fare altro. E come lo direi ai ragazzi che siete sfruttati? Beh, noi diremo che per una cosa burocratica loro non potranno più frequentare il loro circolo dove fanno musica, dove imparano a suonare gli strumenti musicali, dove fanno attività di animazione, dove facciamo convegni, dove c'è lo sportello dei diritti, lo sportello di ascolto per le famiglie, dove grazie a un finanziamento del Ministero delle Politiche Giovanili siamo riusciti a, stiamo avviando un progetto Cantieri Sociali rivolto all'aggregazione giovanile, quindi provare a fare delle esperienze ancora più interessanti per i ragazzi. È un atteggiamento che, secondo me, nasconde altre cose, perché altrimenti tu le associazioni le chiami, discuti e provi a capire qual è la difficoltà, qual è il problema. Se qualcuno pensa di chiedere alla nostra associazione o ad altre associazioni atti di sottomissione, noi evidentemente non conoscono nell'arci, nella storia delle persone che la abitano. Noi non ci sottomettiamo a nessuno, il loro gesto non lo ritengo un gesto costruttivo.